Ciao ragazze, sono Sara Decona Matata e benvenute nella prima parte della presentazione della collezione natale. Troverete, vi faccio vedere tra poco, una serie di articoli, dalle decorazioni ai fuori porta, ai centro tavola, un po' di tutti i prezzi. A partire dai 3 euro fino ai fuori porta più importanti, troverete poi su ogni creazione il relativo prezzo. Quindi, questo è il numero della creazione e questo è il prezzo. Quindi potrete commentare direttamente con l'articolo che vi interessa, basterà scrivere 90 in questo caso, oppure scriverci direttamente su Whatsapp. Sono tutti pezzi unici, non riproducibili, quindi vi invitiamo a scriverci subito in modo da non rimanere senza. Potete passare a ritirarli o nei nostri negozi ad Ancona oppure li possiamo spedire in tutta Italia. Direi di iniziare. L'articolo numero 80 viene 13 euro ed è questo tralcio con la pigna e il sonaglietto. Passiamo poi al numero 79 che è disponibile in tre varianti. Viene 6 euro e c'è l'angioletto, il cagnolino oppure l'ognomo. Per quanto riguarda invece il progetto numero 82 è questo albero centro tavola, viene 13 euro. Mentre per quanto riguarda la lettera, questo ovviamente possiamo realizzarle anche con qualsiasi altra iniziale, è il numero 84 e viene 12 euro. Vi basterà poi scriverci 84 con l'iniziale. Questo è l'articolo 90 che vi faccio vedere poco fa, viene 29 euro ed è comprensivo anche di luci con batteria. Mentre il numero 83 viene 17 euro ed è questa luminaria carina e che piace anche ai più piccoli. Per quanto riguarda invece questo cuore è l'articolo numero 91, è in cartone alveolare stampato e viene 24 euro. La versione con la scritta buone feste, molto simile, è il progetto numero 81 e viene 19 euro. Mano a mano che vi faccio vedere, volendo potreste anche fare uno screenshot oppure prendere carta e pena e segnarvi i progetti che vi interessano. Allora, questa è la scritta Noelle, è il progetto numero 88 e viene 59 euro. Sono lettere in legno, dipinte e decorate, ognuna con una particolarità diversa e si sposano bene anche sopra magari un caminetto o quant'altro. Scendiamo ancora, arriviamo alla scatola, il progetto numero 92 viene 29 euro. È una scatola in cartone vintage con la decorazione, molto bella anche magari per mettere del cibo, del presente insomma da portare a Natale. Mentre questo è un progetto più semplice, viene 11 euro il Babbo Natale con scritto buone feste. Infine, nell'ultimo ripiano di questa parete abbiamo il progetto numero 94 che viene 11 euro. È un medaglione comprensivo poi di luci, quindi si accendono e si spengono con la taschina. Sempre pensato per i bambini abbiamo il progetto numero 86 che viene 9 euro, questo pupazzo di neve. Poi c'è il numero 93 che è questo porta panettone, quindi qua ci va tranquillamente un panettone da un chilo. E poi il numero 87 viene 14 euro ed è un sacchetto che può essere carino sia per la Befana oppure come porta oggetti. Continuiamo con la seconda parete. Di qua abbiamo l'Arena Rudolf che è il progetto numero 72 viene 24 euro. Questo fuori porta semplice ma sempre d'effetto è il numero 77 e viene 14 euro. Poi abbiamo la calza che è il numero 70 con questa stella di Natale glitterata e viene 18 euro. La scatolina, la versione più piccola di quella che vi ho fatto vedere poco fa, è il numero 75 e viene 12 euro. E poi c'è la Befana sul sacco, rimanendo in tema Befana, Epifania, progetto 71 che viene 19 euro. Questo invece è un portabottiglia che viene 9 euro ed è il progetto numero 76. Scendiamo un pochino ed arriviamo alla lanterna che è il progetto numero 78 che viene 21 euro. Questo bel centrotavolo adorato che è il progetto 73 e viene 39 euro con tutte le decorazioni precise, molto molto belle. Un altro centrotavolo bello importante è il progetto numero 69 comprensivo di Candela che viene 35 euro. Se invece volete contenere un pochino ma sempre d'effetto è il progetto numero 74 che viene 22 euro. Poi, per quanto riguarda la parete rosa, partiamo dal basso con questi due fuori porta. Home Sweet Home è il progetto numero 63 che viene 19 euro. Il 58 che viene 15 euro, simile, sempre con un cuore di legno. Il progetto 56 invece viene 24 euro, è questo cuore di legno con le pignette. Il 62 invece viene 6 euro, è pensato come un segnaposto volendo o comunque un presente piccolino. Poi abbiamo il 57 che è questo centrotavola con la stella di metallo oro, comprensivo anche di luci. Questo viene 29 euro, progetto 57. Di qua invece scorriamo con il pupazzo di neve, con il velluto a coste. È il progetto numero 61 e viene 19 euro. Saliamo ancora con il bottone a casetta rosa, rosa antico. Progetto numero 55 che viene 25 euro. E rimanendo sempre su queste tonalità del rosa abbiamo il progetto 60 che è una scatolina molto carina. Eccola qua, è anche utile. Viene 32 euro. Poi questo centrotavola piccolino viene 9 euro, è il progetto numero 54, mentre il 59 viene 19 euro. Salendo andiamo alle palline che è il progetto numero 65 e viene 12 euro. E questa è la stessa versione verde, quindi potete scegliere a 12 euro se avere la rosa o la verde. Vi basterà scrivere 65 rosa o 65 verde. Poi abbiamo appendino rosa, viene 9 euro e si può anche qui appendere anche all'albero. Mentre come palline più importanti abbiamo questa con l'effetto peluche e i fiori di velluto rosa antico. È il progetto numero 67 e viene 29 euro. Simile abbiamo anche il progetto numero 66 che viene 24 euro con il vischio bianco e il fiore bianco. Salendo ancora l'ultimo ripiano di questo scaffale abbiamo questo albero 3D in pizzo che è il progetto numero 52 e viene 39 euro. Poi abbiamo questo centrotavola che è il numero 68 e viene 22 euro. E finiamo con la ghirlanda numero 51 che viene 35 euro. Per tutti i progetti che non avete ancora visto vi invitiamo a seguirci nei prossimi reel sui nostri social. Quindi sono dei video brevi dove vi parleremo di tutti i progetti che non avete ancora visto. Così se vorrete potrete poi aggiungerli alle vostre richieste e completare poi gli articoli da regalare. Noi spediamo in tutta Italia e per qualsiasi informazione vi aspettiamo anche su Whatsapp. Grazie e a presto!